in realtà ragazzi poteva sembrare alla vigilia un venerdì sera particolarmente noioso, con due squadre non le definirei agli antipodi, però sicuramente è un Napoli completamente scarico dal punto di vista psicologico vista tutta questa maledetta stagione e d'altro canto una fiorentina che ad oggi ragazzi permettetemi di dirlo tutto sta pensando tranne che a queste ultime due di campionato e tra l'altro oltre a questa partita c'è da commentare qualcosa di importante sulla Serie B in realtà due cose molto importanti una che è accaduta poco fa perché il verdetto è di poco fa ed è definitivo perché non ci sarà la partita di ritorno e una cosa che è accaduta ieri che però ragazzi ci sta lasciando è un semi verdetto in vista della partita di ritorno o quasi bentornati e ben ritrovati allora se domani visto che me lo state chiedendo in tantissimi volete il parere del buon Fabio sull'esonero di Allegri su tutta la situazione di Allegri che si è venuta a creare e che sbrocca con quello con quella dovete semplicemente supportare i miei contenuti lasciando mi piace anche su questo video è gratis iscrivetevi attivate la campanella se attivate la campanella ovviamente attivate le notifiche così non vi perdete più neanche un contenuto restate sempre aggiornati due canali di calcio avete visto oggi che cosa ho pubblicato su Gabomen Extra ragazzi un video che stavate aspettando veramente da una vita ho riportato quella serie andatemi a supportare anche perché è un argomento che interessa a tutti non esistono persone in cucina con Gabona ragazzi la cucina non può che interessare non esiste gente che dice no a me non piace la cucina quindi andatemi a supportare anche lì tutti i canali in descrizione come sempre compariranno qui durante il video mentre va a terminare la partita tra Fiorentina e Napoli ribadisco perlomeno c'è stato spettacolo cioè perlomeno abbiamo visto due gol da una parte due gol da un'altra non è stato uno scialbo inutile 0 a 0 probabilmente con 0 a 0 ragazzi non lo avrei ma no l'avrei fatto comunque il video però ci avrei dedicato veramente poco tempo mi sarei concentrato molto di più sulla sulla serie B ieri ragazzi c'è stato il play out di andata tra Ternana e Bari e in realtà ragazzi è arrivato un verdetto per me è verdetto cioè è un quasi verdetto in realtà è molto molto importante perché poi io ero al ristorante se avete seguito se mi avete seguito su Instagram lo sapete l'ho seguita da lì la partita e come se stava a mettere ragazzi comunque il Bari lasciate sta calci di rigore sbagliati e via dicendo il Bari era passato in vantaggio al sessantesimo io ragazzi stavo cominciando a pensare forte eravamo all'ottantesimo ho cominciato a pensare ho detto cioè il Bari insomma se si porta a casa sta partita faccio tempo a pensare ragazzi che ovviamente arriva al gol dell'1 a 1 è che inguaia il Bari perché adesso in vista della partita di ritorno se non sbaglio non ve vorrei di una cazzata la Ternana ha il doppio risultato per restare in serie B quindi il Bari a me dispiacerebbe tantissimo ragazzi ma serve un miracolo perché questa era Bari Ternana cioè il Bari deve andare a giocare in casa della Ternana la partita di ritorno e poi solo vince cioè capite bene no? di che cosa di che cosa stiamo parlando è tostissima secondo me e ribadisco mi dispiacerebbe tantissimo vedere vedere il Bari sfiorare l'anno scorso la serie A appena sputacchio ragazzi addirittura solo pensare che l'anno prossimo possa ripartire dalla serie C non me ne voglia che ti fa Ternana sono più romantico perché il Bari da quando seguo il calcio io quando ero piccoletto ragazzi mi ha trasmesso tante tante emozioni c'è però dopo la partita di ieri che ci tenevo a commentare un minimo oggi c'è un verdetto pesante oggi c'è un verdetto importantissimo ragazzi perché è a partita secca e il Palermo vince 2 a 0 contro la Sampdoria cioè ragazzi questi sono playoff ovviamente mi dispiace per Pirlo mi dispiace onestamente per per Pirlo diciamo che insomma il Palermo quest'anno ha dimostrato di essere una squadra veramente forte una squadra veramente solida una squadra che può essere una delle serie candidate alla promozione in serie A per cui ho più la voce pare fatta apposta sto dell'affa cazzate cose che non c'entrano niente col parlare ho tutta la voce del mondo mi serve per lavorare ragazzi la voce ovviamente scompare nel frattempo mi scompare pure la connessione io devo capire come cazzo è possibile sta cosa sempre poi mentre uno sta a lavorare che la connessione veramente ce n'ha bisogno corconta gocce è pesato perché non mi ricordo voglio guardare il tabellone eccolo qua meno male non mi ricordavo ragazzi mi stava sfuggendo chi incontrerà il Palermo in semifinale incontrerà il Venezia mi ricordo insomma non una squadra qualunque la terza forza di questo campionato Palermo è arrivato sesto la Sampdoria è arrivata settima diciamo che le gerarchie della classifica sono state dai bene o male rispettate non che ovviamente sulla partita secca potrà succedere qualsiasi cosa però passa il Palermo mi dispiace per la Samp ribadisco ma so contentissimo per il Palermo non tanto per il gemellaggio Roma e via dicendo mamma mia ragazzi Napoli ha sfiorato il gol che sarebbe valso il 3 a 2 ma non ce credo manco so vedo e spero che il Palermo possa tornare in Serie A ve lo dico stesso discorso del Bari da romantico ragazzi l'era De Zamparini tutto quello che abbiamo visto Di Bala e Cavani ve posso fare tanti e tanti nomi tanti e tanti Lucatoni ve posso fare tante situazioni che davanti del calcio mi sono rimaste nel cuore complimenti sarà una bella partita tra Palermo e Venezia semifinale dei playoff poi ovviamente ragazzi la Cremonese già nell'altra semifinale Catanzaro e Brescia ci diranno chi tra le due nello scontro secoli andrà ad affrontare e poi ragazzi le relative semifinali e finale ribadisco complimenti a questo Palermo su Fiorentina Napoli allora fa male ve lo dico da tifoso della Roma quindi con un totale disinteresse però pensando ai campioni d'Italia in carica ragazzi io sono rimasto basito nel vedere e poi è diventato 66-34 anzi 65-35 in questo momento ci sono stati dei tratti di partita fino a poco fa in cui ragazzi la Fiorentina aveva sfiorato il 70% di possesso palla fa male ribadisco da amante del calcio vedere i campioni d'Italia in carica comunque subì un possesso palla così predominante ragazzi c'è un mismatch clamoroso e tenè il possesso per 70% ragazzi contro i campioni pur sempre d'Italia in carica per me è qualcosa che probabilmente non deve stare in cielo né in terra poi ovviamente ragazzi guardiamo la partita la partita è stata equilibrata secondo me alla fine lo dice lo stesso risultato lo dicono le occasioni da una parte e da un'altra però ecco quel colpo finale d'orgoglio che il Napoli poteva guarda ecco guarda la stessa identica posizione di poco fa preparatevi è uscito è uscito poco fa infatti mi ricordavo che è uscito 4-5 minuti fa era al minuto 86 ah no batte la Spadoli Lindstrom ragazzi che è subentrato a mettere Dolan Messac Vara poco fa vediamo seguiamo stavolanto non succederà assolutamente nulla sarà un nulla di fatto una caccola di quelle clamorose e potrebbe essere finita la partita non sa che fa ripartire il contropiede è finita 95-18 vabbè ora farà finire sicuramente oh 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 ora è finita veramente ragazzi è finita è cala allora quindi 2-2 ragazzi che secondo me per quanto è stato spettacolare ma non serve a nessuna delle due compagini non prendiamo più alla Fiorentina ovviamente in ottica voglio riprendere la Conference ma la Fiorentina ragazzi di Badisco sta a pensare a vincere la finale di Conference per qualificarsi per la prossima dicione dell'Europa League e vuole far vorrebbe farlo ovviamente vista la finale persa l'anno scorso direttamente da quella competizione quindi la Fiorentina diciamo che sto campionato ecco sti ultimi sprazzi di campionato lì sta giocando ma lì sta giocando secondo me con una mentalità più con la testa da un'altra parte il Napoli ragazzi è una squadra che si accende a sprazzi è una squadra che te passa in vantaggio con Rachmani Pulitano Croce Delizia fa errori concede gol in occasione di Inzolà diceva Inzolà ma ovvio che no ho messo ma secondo voi Inzolà che non gioca mai che ha fatto tre gol in campionato lo vado a mettere di tolare ma assolutamente no ho messo tipo terzo panchinaro mai ovviamente non avevo dubbi che avrebbe segnato l'avessi messo titolare io vi assicuro che se sarebbe fatta autocoll ragazzi sono convinto di quello che vi dico quest'anno le bestemmie che ho tirato un'incazzatura su un'incazzatura mi incazzerò a tempo debito cerco di cancellare quello che i miei occhi purtroppo hanno visto disattenzioni ragazzi da parte del Napoli come concedi il calcio di punizione a Biraghi come te la butta oggi tutti i calci di punizione spettacolari ribadisco da una parte da un'altra che questo poi alla fine ha prevalso l'equilibrio e il risultato è anche giusto Biraghi bel gol ma ragazzi in due minuti non te puoi far ribattare una partita cioè non sta né in cielo né in terra ribadisco poi il colpo del campione campione tra virgolette perché poi qualcuno potrebbe dire eh ma che vara lo consideri campione lo consideri in grande giocatore i campioni probabilmente ad oggi sono altri che vara c'ha 22 forse ha fatto è un grande giocatore ne deve fare destrada per diventare un campione l'anno scorso secondo me ragazzi guardando come ha vinto lo scudetto il Napoli eh vabbè ma quelli sono ulteriori ulteriori discorsi gran bel gol su calcio e punizione e poi ragazzi ribadisco un casino da una parte o da un'altra il risultato è giusto più che altro per la situazione di classifica 52 Napoli nono 54 Fiorentina ma con 36 giocate deve recuperare anche quella con l'Atalanta per il Napoli ragazzi ormai cioè secondo me è fuori da tutta l'Europa assolutamente non vedo spiragli dal punto di vista del campionato per poter non so i diffusi del Napoli possono essere anche contenti in una situazione del genere ma sapete che questo discorso secondo me poi dipende se la Fiorentina vince ovviamente è sempre discorso perché mi sa che se vince la confer la confer se vai in Europa League in confer mi sa che c'è comunque il Napoli in quel caso ma non ve vorrei di una cazzata perché con tutti questi cambiano cose ogni tre giorni ragazzi a sesta squadra in Champions a quinta a quarta a se mi sto rincoglioni vi dico la verità perdonatemi e giocare la confer per una squadra come il Napoli secondo me invece è importante ragazzi perché se c'è un trofeo altamente ampiamente alla portata di una squadra come il Napoli che comunque un qualcosa ti può restituire no dal punto di vista di quello che hai subito quest'anno della brutta figura che hai fatto quest'anno quindi non so fino a che punto sia sia bello non qualificarsi per nessuna competizione europea anche la più scrausa per la prossima per la prossima stagione ribadisco però la stagione del Napoli ragazzi veramente qualcosa che cioè io guardo le ultime cinque ma da quando è che il Napoli dice una partita qua porta tre pareggi due sconfitte ma almeno la partita precedente mi ricordo che forse addirittura aveva persa il Napoli o comunque pareggiata cioè la Fiorentina bene o male sta facendo quello che stava facendo l'anno scorso grazie per la visione e ci vediamo come sempre alla prossima con un nuovo video grazie a tutti